buongiorno a tutti bentornati quindi oggi vediamo la scala di sol maggiore allora sol maggiore a il fa diesis quindi adesso vediamo come suonarla sol a vuoto la primo dito poi si bemol lo passiamo andiamo subito al si naturale quindi terzo dito ok do naturale poi re a vuoto mi primo dito fa diesis quindi secondo lo passiamo andiamo subito al terzo e sol naturale possiamo andare inoltre ma in prima posizione la scala di sol maggiore sarebbe questa solo a un'ottava adesso la facciamo un pochino più veloce quindi sol la si naturale do re a vuoto mi fa diesis sol poi andiamo a rovescio fa diesis mi re si naturale e sol adesso la facciamo con l'arco allora questa volta facciamo un ritmo invece di fare una nota per arco raddoppiamo la nota quindi partiamo verso la vuoto primo dito terzo dito quarto re primo dito fa diesis sol a rovescio mi re a vuoto do si la e sol ok potete fare tanti ritmi questo ve lo inventate voi all'inizio dell'arco alla metà alla fine dell'arco questo lo vedremo meglio su un altro video con un'altra scala per oggi vi lascio con questa scala se volete anche se è quella di do maggiore vi metto il link in descrizione e ci vediamo tra pochissimo ciao 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 ciao